Correndo di Mara Giovanotto che ha visto dei tempi minuti Correndo di Mara Giovanotto che ha visto dei tempi migliori Ragazzo mio perché se mostri la tua vera miseria nessuno ci crederà Se hai mal di pancia lo dici ottieni solo un effetto nauseabondo Ma che bel posto! È tutto nostro, Mackie! Che cos'è? Una villa? È nostra? L'abbiamo comprata? Mackie è nostra e non l'hai mica rubata? No, no! No, Mackie non ti credo! Anche oggi è più peggiore della nostra vita Non possiamo avere una volta tutta aperta Belli questi alberi! Tutto sarà fatto come tu vorrai tra poco al mese Tutta roba rubata! Cosa c'è? Questo è a grasso naturale! Non ho mangiato mica niente! Anzi, è meno due settimane che non mangio niente! Sono dimacriso 3 kg! Non è niente, è grasso naturale! Lasci da solo o porta sotto? Niente! Niente, niente, niente! Non ci puoi fare niente! Non ci puoi fare niente! Sai licenziato! Non ci puoi fare niente! No, è giusto niente! Sì! Grazie a tutti Bravo C'è sempre una sola via di uscita da questo maledetto burro Bravo, 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 dai, forse, su da bravo, su Mi porta sempre dai più pesanti, vero, signor C'è soldi, tutti i tipi, basta pagarli Un mostro, sei un mostro Tu credi che io non so più a niente della signorita Pinchu, eh? Io ti caverei gli occhi con le unghie Chi? La signora Mickey La signora Mickey Mickey, mi spieghi che cosa sta succedendo, eh? Eh... Avanti Eh... Musica Polly Polly Mickey, che succede? Mickey Mia cara signorita Signora 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 Guarda qua, no? Che credi che mi abbia ridotto così l'acqua fresca Oh, e che è stato a farlo salire in camera allora? No! È un pitano Ahhhh Bene Quindi Dio inizio all'esecuzione Beh, non dobbiamo fare aspettare tutta questa brava gente, no? Non ho? Eh, eh? Oh?! Oh! 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 Parapapaparada Parapapaparada